Siamo a casa Pisaniello che come sempre ci ospita per degli eventi particolari ed importanti. Maestro Pisaniello a casa sua ospita un importante star nazionale alla pari di lei che è una star anche internazionale. Perché questa intervista? Perché Montesarchio ci ha dato un là per intervistarla. Si è svolta una bellissima cerimonia dell'Epifania. Cosa ci può dire? Ma diciamo che l'orchestra Giuseppe Verdi che è di Montesarchio mi ha chiesto appunto questa adesione per un'esperienza che è diventata importante perché chiaramente è il nuovo prodotto discografico della Kiko Music. Quindi questa è una cosa sicuramente significativa per un complesso di musicisti che diciamo vive questa esperienza per la prima volta e quindi si presenta al mondo. Nell'occasione è venuta a condurre, a presentare la bella serata la carissima amica, bravissima attrice e conduttrice televisiva Emanuela Titocchia, mia ospite, con la quale ho avuto sempre diciamo un meraviglioso dialogo e ho già avuto il piacere di condividere anche il grande schermo. Venire nella Valle Caudina a presentare un evento dell'Epifania che è l'evento dell'anno possiamo dire. Poi oltretutto con il maestro Pisaniello è una bella banda di fiati, è qualcosa di eccezionale. Qualcuno parlava di affinità elettive ed è questo che è l'unico termine, l'unico paragone che mi viene in mente quando io penso a Nicola perché io sono legata a lui in un modo particolare. Sentiamo allo stesso modo, vibriamo allo stesso modo. Quindi io ho avuto la gioia, l'onore e il piacere di conoscere Nicola un po' di anni fa, credo 5 o 6 anni fa, di condurre una serata in cui il maestro riceveva un premio molto importante a Firenze e poi ci siamo rincontrati perché io conducevo una trasmissione e ho chiesto se avessi avuto voglia di venire mio ospite e lui è stato gentilissimo e quindi appena mi ha chiamato io felicissima di questo invito e sono molto contenta. Conosco bene queste zone perché ci sono tante cose belle che mi chiedono di fare, però l'evento questo con Nicola ha qualcosa di diverso, di magico, di straordinario come nessuno mai. La Valle Caudina è da sempre fucina di personaggi importanti, vedi il maestro Pisaniello, ma al di là di tutto ciò un evento dell'Epifania in Valle Caudina con tanta gente, tanta colore se lo aspettava. Diciamo che quando mi chiamo al maestro mi aspetto sempre grandi cose perché giustamente la sua forza, tante 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 le persone che lo stimano gli vogliono bene, quindi io mi aspettavo una cosa così bella e importante, quindi ho un'emozione pura, bellissima. Maestro, dirigetto a lei la domanda è d'obbligo, la Valle Caudina a lei che a mio parere, ed è personale, non è sfruttata al massimo come personaggio illustre. Possiamo fare in questo 2024 qualcosa di nuovo, creare qualcosa di nuovo che dia lustro ancora di più alla Valle Caudina? Senz'altro, la speranza è proprio questa. Da parte mia è molto forte, diciamo, la volontà di fare perché io amo moltissimo la mia terra, quindi la Valle Caudina. Ho cercato, spero, di essere sempre, diciamo, rappresentante degno di questa terra. Ci sono tante tante idee, ci sono anche delle buone volontà, infatti possiamo considerare l'orchestra Verdi, per esempio. C'è bisogno però di osare un poco in più, più coraggio, più confronto. E i suoi progetti per il 2024? Ah, tanti. Poi io non lo so se... Sono di Torino, però credo di essere più scaramantica dei napoletani, perché proprio non riesco a parlare di qualcosa, ma neanche se l'ho già firmato un contratto e neanche se l'ho già girato un film, perché ho sempre paura che succeda qualcosa. Però diciamo che io ho scritto un cortometraggio che amo follemente, è stata un'ispirazione, una storia di donne molto attuale, sociale, ma bellissimo. E quindi dovrei girarlo a marzo. E poi ho un film ad aprile da girare in Toscana e poi iniziamo, lo posso dire, iniziamo una trasmissione proprio a Napoli, non dico canale, però sarà una domenica di quattro ore di diretta, molto bella e avremo, spero, mi auguro, ospite anche il maestro Pisaniello, perché quindi sarà tipo una buona domenica, così, molto divertente. Maestro, abbiamo svelato qualcosa del suo 2024, cosa aggiunge? Beh, io senz'altro parteciperò a questa trasmissione a cui la cara Emanuela ha fatto di anzicenno e ovviamente poi io continuo anche con la mia carriera di vocalista, volerò verso la Gran Bretagna per l'anno puciniano, ritorno in Italia per Tosca e quindi poi ne parleremo. Un saluto alla Valle Gaudina da chi è importante, chi è bellissima e soprattutto chi riesce a dare tanto calore alla gente. Grazie, bellissima questa cosa che mi hai detto, dare calore, beh, è uno scambio sempre, io ricevo tantissimo anche sui social, io mi metto lì quando sono anche, perché anche noi siamo un po' giù ogni tanto, abbiamo i nostri momenti, io mi ricarico guardando le mie pagine social, soprattutto Facebook, perché ti vedo, mi arriva questa onda di affetto, quindi no, lunga vita, anzi organizziamo tante altre cose, tanti altri eventi qui, perché questa è una terra che merita tantissimo e bisogna farla conoscere un po' di più a livello internazionale.